eccoci qui allora abbiamo fatto la meditazione pochi minuti e in questi pochi minuti siete riusciti a percepire tutti questa forma di silenzio giusto e immagino che si stia bene nel silenzio quindi vi invito a portare nelle vostre vite questa maggior consapevolezza che attraverso il silenzio possiate trovare questo contatto intimo con questa parte interiore che è una parte che nel momento in cui tutto tace arrivano poi dei messaggi sotto forma di visualizzazioni sotto forma di intuizioni l'anima ha tanti modi per arrivare a noi e farci comprendere qual è la strada giusta perché nella nostra vita nella nostra giornata abbiamo sempre delle scelte da fare e spesso però queste scelte non vengono fatte in connessione con la nostra vera natura cioè quindi connessi con ciò che realmente vogliamo perché ci facciamo influenzare da quello che invece è l'ambiente le persone che magari ci stanno attorno magari anche semplicemente il classico giudizio della gente che non la conosciamo però ci condiziona perché anche stamattina parlavamo del fatto ma poi se faccio delle cose cosa penseranno di me e quindi questo nostro aspetto genitoriale di madri che magari continuano a fare e continuano delle dinamiche che non sono esattamente quelle che noi vorremmo ma le facciamo perché abbiamo paura di questo giudizio così come oggi l'argomento che volevo trattare era connesso all'adolescenza la sessualità l'omosessualità la disabilità sono tutti aspetti che talvolta possono condizionare la vita familiare la vita personale di ognuno di noi e chiaramente immaginavo ci potesse essere un pubblico un po' più vasto ma in questo caso direi che ci possiamo limitare semplicemente all'aspetto genitoriale poi se c'è qualcosa che vi fa piacere magari far emergere basta che mi diciate io ho questa cosa che non l'ho capita bene e magari posso visto che siamo in pochi a maggior ragione posso dedicarvi molte più attenzioni e quindi rispondere in modo più diretto a qualcosa che magari rispetto al rapporto genitoriale sia da genitori che da figli può esservi come dire il mio intervento una sorta di di ponte per arrivare magari a comprendere qualcosa che per timore per paura non avete mai attraversato e quindi magari il ponte di questa comunicazione può aiutarvi a raggiungere una maggior conoscenza che dite vado ad abbassare un attimo il volume allora ci stava parlando di una canzone che si tocca anima e cuore quando c'è storia che finita male con amore che qualcuno forse lasciato qualcuno allora i poeti dicono l'anima fa male e cuore e piange come il russo c'è una bella canzone ma proprio vicino questo che è il nostro anima che è sensibile che ti fatto male allora anima piange il cuore piange e anima fa male è tormentata sì sì è proprio queste parole che ti ho trovato difficile trovare parole giuste di spiegare bello bella anche la tua voce mi piace psicologia allora oggi vi dirò qualcosa simon tu invece sei andato nel mondo di morfeo sei rilassato allora la mia visione eolistica mi porta a fare anche questa affermazione quando il cuore soffre vuol dire che c'è qualcosa che dobbiamo imparare c'è una lezione in quell'esperienza che può essere la relazione con una persona o una situazione che avviene parlavo prima del la nostra anima è nel cuore associata al cuore perché l'anima come dicevo prima la mia visione olistica mi porta a dire che il seme cosmico dell'amore quindi se l'amore è cosmico il seme è dentro di noi dove andrà ad alloggiare se non nella parte quella che solitamente l'associamo sempre all'amore quando abbiamo qualcosa di bello qualcosa di che ci fa male e sempre portiamo quasi spesso le mani al cuore perché è un modo per sentirci più uniti oppure diciamo anche ti sono vicina col cuore no il cuore è come se fosse fra l'altro ed è bellissimo a livello simbolico universale è un linguaggio universale ovunque voi facciate vedere un cuore è il simbolo dell'amore un po' come la coca cola no è famosa in tutto il mondo il simbolo del cuore è associato all'amore in qualsiasi lingua in qualsiasi paese questo in qualsiasi nazione il cuore è simbolo di amore e quindi la mia visione olistica mi porta a dire che l'anima risiede nel cuore anche perché stavo facendo qualche studio legato all'aspetto energetico e pensate che il dna mitocondriale che è il dna che trasferisce pensate al 100% solo la linea materna nel momento in cui dicevamo prima l'incontro fra spermatozoe ovulo e quindi c'è questo incontro genetico di informazioni dell'energia maschile dell'energia femminile l'aspetto mitocondriale energetico dove io sono convinta ci sia questo dna la memoria del dna risiede proprio in questo aspetto energetico quando vi dicevo il risveglio spirituale porta quasi sempre a ricordare delle informazioni delle cose che possono arrivare sotto forma di inside di illuminazioni non so se vi è mai capitato no di trovarvi nella condizione che di punto in bianco avete trovato un senso è mai capitato quando vivete in una situazione che grazie a un pensiero lo chiamo inside illuminazione avete trovato il senso di quella situazione e quindi vi trovate di nuovo in pace con voi stessi ma non è a livello mentale l'illuminazione è solo la luce che si accende ma poi va in connessione con questo aspetto interiore che ci porta proprio a dire e sia così cioè è come dire l'accettazione o comunque la comprensione ecco può essere più la comprensione anche perché io faccio distinzione il capire è legato alla testa il comprendere è legato al cuore spesso a noi manca la coerenza fra testa e cuore è come se non si parlassero non si parlano spesso perché anche se l'anima parla la testa è piena di pensieri come dicevo prima se c'è tutto il rumore di sottofondo si fa fatica quindi ritornando alle scelte che di giorno in giorno ci tocca fare nel momento in cui le facciamo con maggior presenza maggior coerenza fra testa e cuore riusciremo ad avere una vita più in linea con quello che sono è il nostro sentire siete d'accordo che spesso invece le decisioni le facciamo più in funzione degli altri vi è mai capitato di continuare a fare cose non perché realmente ci fermiamo e diciamo ma cosa vuoi davvero non ce lo permettiamo neanche non ce lo permettiamo per paura di essere giudicati male per paura di perdere l'affetto di determinate persone tu forse ti senti molto in questa condizione di ma sappiate che a continuare su questa strada alla fine farete solo del male a voi stessi alle persone che vi stanno accanto perché in realtà quello che fa bene agli altri anche le persone che ci sono accanto sono le è la coerenza sono quelle situazioni quelle scelte che vengono fatte non perché le devo fare ma perché se ci sono è perché lo sto facendo col cuore no perché spesso apparentemente facciamo delle cose dettate dall'amore ma quell'amore cosmico come vi dicevo lascia anche la libertà di poter fare come anticipavo prima la propria strada le persone ai nostri cari e invece quando è che succedono i conflitti l'aspetto genitoriale soprattutto fra genitori figli poi lo stesso aspetto lo possiamo applicare alla coppia lo possiamo applicare nell'amicizia lo possiamo applicare nel lavoro ma fondamentalmente è sempre quando non rispettiamo in primis noi stessi e quindi facciamo sì che altre persone influenzano le nostre scelte la nostra vita e quindi viviamo una vita che non è la nostra